A differenza della vitamina C, la vitamina D non si trova solo negli alimenti, ma si assorbe principalmente tramite l'esposizione al sole. Ciò nonostante abituare i bambini a mangiare in maniera equilibrata e sana è una pratica essenziale per garantire loro una crescita ottimale. Nel video qui sotto puoi trovare alcuni spunti per merende salutari da gustare a scuola nei prossimi giorni. Guardalo e poi prosegui nella lettura per tutte le informazioni sulla vitamina D. Il tuo browser non può visualizzare questo video-video di vittoria salvo vitamina D, di cosa si tratta e dove trovarla. Come genitore è tuo dovere assicurarti che il tuo bimbo cresca sano e forte, fin dai primissimi giorni di vita. Prendersi cura di un neonato richiede tante energie e sforzi, ma è importante continuare nell'accudimento anche negli anni successivi. Dal momento che hai conosciuto il tuo bebè ti saranno state elencate alcune protezioni da dare al piccolo appena nato, diverse buone pratiche da adottare, qualche consiglio sull'allattamento e una breve lista di vitamine da somministrare per via orale con delle gocce, tra cui la vitamina D. Si inizia proprio da piccolissimi ad integrare la vitamina D perché i neonati ne sono naturalmente carenti, ma ne hanno comunque bisogno per crescere in salute. Quando si parla di vitamina D si intende in realtà un gruppo di vitamine. Le più importanti sono la vitamina D2, ergo calciferolo, e la vitamina D3, cole calciferolo. La prima è di origine vegetale, mentre la vitamina D3 è quella che il corpo umano produce e metabolizza quotidianamente. Di norma infatti la vitamina D viene prodotta nella pelle grazie all'esposizione diretta ai raggi solari e alle radiazioni ultraviolette. Questo meccanismo del tutto naturale fa in modo che il deidrocolesterolo, un derivato del colesterolo venga trasformato in vitamina D3. A questo passaggio la sostanza non è ancora attiva, dovrà arrivare al fegato e al rene per diventare un ormone, il 25 o 2 cole calciferolo. Con la dieta si può introdurre sono una piccola quantità di vitamina D, che è contenuta in alimenti che di rado vengono consumati di buon grado dai bambini, come il pesce grasso, salmone, le aringhe, le sardine e l'olio di fegato di merluzzo, il tonno in scatola, il tuorlo d'uovo, il burro, le verdure a foglia verde e altri cibi addizionati con vitamina D come certe varietà di latte. Vedi anche obesità infantile. Quali sono le cause e i rischi in età pediatrica vitamina D A e neonati? Fino a quando somministrarla e perché? Pregraffismo. Che cos'è e perché è importante per i bambini? Perché integrare vitamina D è importante per i bambini? Il parere generale degli esperti è che questa vitamina deve essere assolutamente somministrata ai bambini, di qualunque età. Come mai questo ormone è così importante per la loro salute? Considera che in una situazione dove si segue un corretto stile di vita, la vitamina D assunta tramite il regime alimentare è pari. Solo al 20% circa del fabbisogno giornaliero. Il resto, l'80%, dovrebbe essere naturalmente prodotto dal nostro organismo grazie al contatto diretto con il sole. Non a caso la vitamina D, e nello specifico la D3, è anche chiamata la vitamina del sole. Assumere dosi consone di tale sostanza a seconda dell'età è essenziale per fare in modo che il nostro bambino si sviluppi in maniera corretta. Non solo essa promuove l'assorbimento di calcio dall'intestino, ma permette che altre funzioni vitali si attivino nel modo giusto. Ad esempio che calcio e fosforo vengano riassorbiti da parte delle rene. Questo è indispensabile per il deposito del calcio nelle ossa e nei denti dato che sono proprio le due sostanze che vanno a conferire all'apparato scheletrico robustezza e solidità. Le ultime ricerche in materia sottolineano come la vitamina D sia in grado di apportare benefici significativi sia al sistema immunitario che neuromuscolare di un bambino in età evolutiva, ma anche che sia un fantastico alleato per prevenire le infezioni respiratorie del bambino, le riacutizzazioni delle crisi asmatiche e migliorare lo stato della dermatite atopica. Un'adeguata assunzione di vitamina D è quindi fondamentale in tutte le fasce di età. In particolare lo è per i feti nel grembo materno, fase prenatale, e per chi è nei primi anni di vita, ma l'importanza di avere quantità corrette di vitamina D nell'organismo continua per tutto il periodo di crescita, adolescenza inclusa. Carenza di vitamina D Perché i bambini ne sono soggetti? Ad oggi si stima che circa il 50-70% dei bambini italiani abbia una carenza di vitamina D, con dei picchi negli anni dell'età neonatale e quella adolescenziale. Di conseguenza è necessario integrare questo ormone per un periodo di tempo molto lungo. Le cause che portano a questi risultati si possono ritrovare nello stile di vita odierno, troppo poco incentrato a favorire situazioni nelle quali è possibile ottenere vitamina D. E purtroppo questo si vede tanto nei bambini quanto negli adulti. Le abitudini dei ragazzi nei paesi sviluppati sono molto diverse da quell'in via di sviluppo. Insufficiente esposizione solare Stili di vita errati Alimentazione frettolosa e non sempre corretta Consumo di alimenti sbilanciati come i junk food invece di cibi freschi Dieta poco varia e sedentarietà Tutti fattori di rischio per incorrere in una carenza di vitamina D Stare rinchiusi molte ore al giorno a scuola e a casa, davanti a tablet, smartphone e televisione non aiuta di certo a coprire il fabbisogno giornaliero di questo ormone in un bambino, ragazzo, che si trova in piena crescita Per di più, quando siamo esposti al sole, tendiamo a coprirci con dosi abbondanti di creme solari, che se da un lato è una pratica del tutto corretta per prevenire l'insorgenza di melanoma alla pelle, dall'altro minimizza però la nostra produzione naturale di vitamina D L'ormone viene attivato e prodotto solo quando il contatto con i raggi solari e i raggi ultravioletti è diretto e non schermato dalle barriere scudo di molti prodotti con protezione UV e UVB Non deve quindi stupire che diversi studi degli ultimi anni abbiano portato alla luce il fatto che molti bambini del nostro paese, siano determinati da bassi livelli di vitamina D Come accertarsi di una carenza di vitamina D nel bambino Una volta individuate alcune delle possibili cause di mancanza di vitamina D, è piuttosto facile riconoscere i sintomi Quello più classico è l'astenia, ovvero la stanchezza fisica, ma sono comuni anche la debolezza muscolare, un rallentamento della crescita ossa e piccoli dolori Per essere comunque sicuri che il bambino abbia una carenza di tale vitamina E non stia solo attraversando una fase critica del suo percorso di crescita, è necessario eseguire alcuni esami del sangue, misurando la 25 idrossi vitamina D, 25 O D Se dalle analisi in laboratorio risultano livelli inferiori a 30 ng per millilitro allora si è di fronte ai povitaminosi Se il bimbo è molto piccolo sotto i due anni di età, la carenza di vitamina D si manifesta con il rachitismo Un'alterazione della crescita delle ossa che si caratterizza da problemi di mineralizzazione dell'osso in via di sviluppo e conseguenti deformità dello scheletro Anche se oggi in Italia il rachitismo è considerato superato, non è ancora scomparso in altre aree del mondo Lo si può diagnosticare nei bambini piccoli, specialmente migranti o chi ha origini africane e quindi dotati di pelle molto scura Proprio per via del colore della loro pelle questi bimbi sono meglio protetti dai raggi ultravioletti, ma sintetizzano meno vitamina D Quando si effettua una diagnosi di rachitismo ecco a cosa si assiste da un punto di vista fisico, un ingrossamento dei polsi e delle caviglie, comparsa di nodosità al torace, il cosiddetto rosario rachitico, e il rammollimento delle ossa del cranio, cranio a pallina Di ping pong, oltre che un incurvamento delle ossa lunghe e degli arti inferiori Nei bambini di età superiore ai due anni l'ipovitaminosi è più caratterizzata da debolezza muscolare generalizzata e un rischio maggiore di subire fratture Guarda anche, carenza di vitamina D, quali sono i sintomi e i rimedi, e GT, di apopicture